Un'avventura che non tirerà, l'azzurre fuori in questa città, una storia magita, non va ancora, non va ancora. Un'altra tre, Porta, Lanni, poi due centrali, Bove e Spraga, Cagnano e Pogliano, poi centrocampo, Bubba, Buzzegoli, Cacca e Capitano, Collo delle Bianche, poi un attacco, cioè Panico, Schiavi e un attaccante Punta, Torino. Pogliano, 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 Panico, Panico, Consecca dove è finito? Fantastico, come ho detto, buona palliante. Ho lasciato completamente da solo, giornata amara, completamente da solo, io ho già canato il po' nostro, vabbè, quindi stimo è già con l'altra, ma ci sarò ancora, ci sarò ancora. Quanti anni c'ha questo? Ti ho detto, a quando, ma veramente, ha più anni di Bubba, eccoci. Vedi, ha lasciato da solo, Cagnano, è alto così, sta a far gola di te. Ma perché proprio l'ha lasciato da solo, Cagnano e Cosa. Ma dov'è la difesa, ecco, cara, dov'è la difesa? Questa volta è bene. Questi corsi in mezzo, non c'è la forma. Non fermano niente. Uh, non li, ah, stai su, stai su. Abbastanza ieri, ah, già, inutile. Eccoci, inutile. No, non c'è, che... Aspetta. Oh, uh! Dai, non era così, l'insedio. C'era una ronda. E ho una società, era un corso. Sì, ma vabbè. E non so, magari quando avremo la partner potremo. Eh, rigore. No. Rigore, aspetta. Fuori, fuori con... Ah, manno. Rosso? Ma il caso di rigore, no, no, no. Non lo so, non lo so, non è sulla linea. È punizione, vedo che... Ha messo lo spray al limite dell'aria, sento l'aria piccolina. Ma quanto vanno di recupero, scusami? Non abbiamo visto tre. Ma no, non lo dicono, non lo dicono. Ffff, cavolo. Non ci credo. Già, già siamo sotto, non c'erano poi in dieci. Ma... Anche schiali. Anche schiali. Beh, ma cosa dico? Che piace nello stare. Non c'è più il radio, le espulsioni chiosa. Cioè, speriamo di partire. Non c'erano andare... Ah, sì, tre espulsioni. Tre espulsioni. Tre espulsioni. Chiosa. E poi se ne erano andato all'entella. E' andato in serie B con l'entella. Fatto il fuoco. Dove ne erano presentato? Ma non ci fanno avere un replay che non l'ho visto? Ma è un fallo leggero. Il problema è che il giallo era inevitabile. È vero, è lì. Dove evitare l'altro. Con l'entrataccia che ha fatto. L'unico ammolito che avevamo... Sì, ma te l'ho detto. L'entrataccia è ingiusta. Non era di bianchi quello di... No, no. Cioè, proprio inutile il fallo. Cos'è dentro così? Ma che è un'entrata cattiva, eh. Le andai, le andai. Attenzione. Proprio l'ho visto. Nuova la Padova. Escursione, goccia e punizione. Non voglio dire nulla. Ah, devi fare... Aspetta, aspetta. Ci dovrebbe essere la configurazione del moderatorio. C'era un... C'è un sito di Twitch. Un'estensione di Twitch. Twitch Twitch. Trappi cross con giocatori bassi. Ma gli andiamo a troppi di rivoluzione. I giornalisti che mancavo. Via, via, via. E niente, ragazzi. Male, 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 male. Eh, eh. Poi si prende. Su... Vai, vai. Guarda, Eric. Sì. Ma se non sei, Davide, dentro là. Vuoi provare la signata, lì? Una caffè. Una muffetta. Una muffetta. Una muffetta. Basta. Ma io lo sogliava il suddito. Cinque minuti basta avanti. Con questo... Quattro e mezzo. Ti prendo fino a... Cioè, aver comparto con lui. Ma vai a ripartenza. Ma perché devi sbagliare una ripartenza? Tirando da centrocampo. Ma chi sei? Marcolini che sei da centrocampo. Marcolini pallonetto! E' un colchiamoroso! Di Michele Marcolini! Cos'ha fatto Michele Marcolini! Perchè una squadra lo può. Oh! Cosa è successo? No! Ma dove era qua? Eh sì, perché non ha girato. Non ha girato lo schermo. Da, da. Proviamo anche i miei. Dai. Ragiona, ragiona, ragiona. Dov'è la Nini? Dov'è la Nini? Dov'è? Non c'è la Nini. Dov'è? Ma guarda dove era! Non c'è la Nini. Dai, dai. Allora, e fa un'amore? Non c'è la Nini. Oh, dai. Dai. Dai, dieci contro dieci. Ah, la Nini ha visto, cartellino roto subito alzato. Eh, la parola di me è un po' gopo. Oi! Eh! Vuoi tre giornate, eh? Dai, uo, mezz'ora, mezz'ora. Beh, io mi ricordo l'ora. Beh, sì, questo è fanno. Questo sarebbe andato. Cosa? Sì, ce l'aveva segnato? Un doppietto all'andata e un doppietto. No, tira! Noi! Noi! Allora! Parico, perché non ha tirato? Me l'ha passato. Dai, favolo. Troppo turista. Dai, dai. Espreme. Almeno a Parico. Sì, Pablo. Dai, raggiungiamo quello che devi raggiungere. Cacchio è... Eh, lisce, beh, lisce. Sono appare troppo pieno. E' un passaggio preciso sul... E' un passaggio preciso. E' un passaggio preciso di Pierozzi. Un avversario in via velocità. Ora? Che fiora è lanciato? Come si è? Ma che palle però! Sì, si sente l'annaccio Vediamo un cazzone, dunque perché avevano Spaccato Che sfida Ah, ho proprio appena tornato Proprio appena tornato Guarda, anche qua L'accento libero Era da solo Guardi per la marcha di... Siamo in zona play-out Adesso c'è veramente L'accento libero Vado qui Vado qui Saltati come dei poveri C'è una volta delle po' lunga ... ... ... ... ... ... ... ... ...